Il Centro Galmozzi è un'associazione di volontariato che svolge la funzione di memoria storica del territorio cremasco. Da sempre è stato svolto un lavoro di ricerca e raccolta di materiale, che è stato catalogato e archiviato. Abbiamo deciso di valorizzare questo materiale rendendolo fruibile al pubblico sul nostro sito. Entrando nel sito centrogalmozzi.it e cliccando su archivio potete accedere alla pagina dedicata. Qui potete vedere l'anteprima dell'archivio fotografico e dell'archivio audiovisivi. Cliccando su audiovisivi si aprirà una schermata dove potete vedere tutti gli audiovisivi divisi per progetti. Cliccando su un progetto si aprirà una pagina dove potete vedere la foto del progetto e una breve descrizione. Sotto i video sono divisi tra montaggi e interviste. Aprendo la scheda di un montaggio troverete il collegamento diretto con YouTube dove potrete visionare il video. Accanto troverete i dati riferiti al montaggio selezionato. Aprendo le interviste e cliccando su una scheda troverete i dati relativi all'intervista e il tasto richiedi intervista. Nella parte alta della pagina audiovisivi potete trovare la ricerca che vi permetterà, inserendo una parola chiave, di trovare i video relativi. Cliccando su fotografie si aprirà la schermata relativa all'archivio fotografico dove potrete vedere tutti i percorsi. Cliccando sul percorso si aprirà una scheda dove potrete vedere tutte le foto relative al percorso. Aprendo la scheda della fotografia potete trovare i dati riferiti ad essa. La ricerca fotografica funziona come quella degli audiovisivi. Ora vi spiego la ricerca avanzata. Qui troverete più campi da inserire. Questa ricerca può essere svolta per le fotografie, per gli audiovisivi o per entrambi contemporaneamente.